Io sono una docente abilitata di storia dell'arte e vorrei tanto insegnare, è una cosa che desidero oltre ogni cosa. Intanto sei disoccupata? Sì. Abbiamo dei decreti del Tar del Lazio che ci inseriscono con riserva nelle graduatorie esaurimento. L'ufficio scolastico nega la possibilità di essere inseriti in queste graduatorie. Io mi sono abilitata, sto facendo un dottorato di ricerca eppure sembra che devo pregare per andare a fare il lavoro per cui mi sono formata per oltre dieci anni. In questo ufficio quanti siete? In questo ufficio, questa sezione, siamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Però non ci occupiamo solo di questo, abbiamo anche di altro. Ho capito, ma in 6 persone non potete inserire manualmente? No, 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 non lo possiamo fare, ci rifiutiamo di farlo. Lo rifiutiamo? Vabbè. Ci rifiutiamo perché è impossibilitato. Abbiamo visto che in serie che ci modificassi il programma e ripetiamo lì, in serie non lo so. E' così difficile, diciamo, scrivere a penna. E' una cosa disarmante però, abbia pazienza. Provi a sedersi lì. A me dispiace per il lavoro che dovete fare, ma quello è un diritto, all'altra parte è stata rispettata questa cosa. Perché qua no? Questa è la domanda. Dite queste cose che vi sto dicendo. L'avvocato agisce legalmente. Se gli uffici scolastici provinciali hanno inserito, alcuni uffici scolastici provinciali hanno inserito dei ricorrenti, vuol dire che lo possono fare tutti. Qualunque esigenza organizzativa non può giustificare l'inadempimento del comando giudiziario. Noi facciamo concorsi e facciamo ricorsi, facciamo concorsi e facciamo ricorsi e speriamo prima o poi di vedere riconosciuti i nostri diritti. Noi facciamo concorsi e facciamo concorsi.